ragazzi e ragazze buon pomeriggio oggi è san valentino lo sapete avete fatto gli auguri alla vostra fidanzatina o al vostro fidanzatino non ancora forza correte basta anche un semplice cioccolatino e un bacio perugina e fate contenti tutti ok dopo questo inizio un po da romanticone cominciamo il nostro video di oggi allora ragazzi col video di oggi comincia una serie di così di approfondimenti sull'insegnamento vorrei fare ho previsto 5 6 video che trattino appunto insegnamento nello specifico il rapporto tra alunni e insegnante insegnanti alunni però per prima cosa voglio farvi fare un tuffo nel mio passato molto remoto allora guardate queste foto all'asilo ero un bravissimo bambino guardate sguardo timido tranquillo quasi impaurito davanti all'obiettivo fotografico alle elementari cominciai un attimino a essere un po più un po più disinvolto sguardo un po' più sbarazzino andavo molto bene a scuola mi ricordo vedere che bel che bel fioccone che bel grembiulone alle medie io sono quello in mezzo è ai ladio mio fratello mia sorella alle medie andavo bene a scuola studente educato rispettoso mai preso una nota in vita mia abbastanza timido riservato però cominciavano a nascere nei primi germi dell'adolescente che sarei stato alle superiori ecco qua alle superiori non vi dico sono stato il classico adolescente inquieto e ribelle come un adolescente dovrebbe essere sempre un bravo ragazzo educato ma cominciava a contestare tutto e tutti il mondo intero ma è una fase psicologica che più o meno tutti attraversano il mio rapporto con la scuola è stato abbastanza buono solo che alle superiori data la mia indole un po contestatrice e ribello ho cominciato a mettere in dubbio tante cose e con gli insegnanti sono stato a volte un po scontrosetto infatti a distanza di tanti anni anzi di parecchi decenni posso riconoscere che ero a volte uno studente alle superiori è un po fastidioso e qualche volta ebbe in modo di discutere con i miei insegnanti ma era una scuola diversa io parlo degli anni 70 io ho fatto le superiori dal 74 al 79 quando mi diplomai dopo alla fine del no che ho fatto liceo classico abbiamo detto una norcia di roma quando mi diplomai ero 19 anni dovevo scegliere e adesso che faccio che sarà della mia vita chi lo sa come dice la canzone famosa mio padre voleva mettermi avvocato era il suo sogno io inizialmente pensai vabbè in fondo ogni papà ha un suo desiderio no lo accontentai inizialmente mi iscrissi a giurisprudenza per accontentarlo mi comprai un bel libro di diritto romano un mattone va sicuro di quasi quasi mille pagine poco meno cominciare a studiare avevo tutte le buone intenzioni e studia oggi studio domani però più andavo avanti e più vedevo che non era la mia strada mi ricordo pagine intediti di latino cose non tanto neanche semplici e mi rendevo conto che non mi appassionava come materia e più andavo avanti durò tutto un mesetto mesetto e mezzo e più capivo che quella scelta l'avevo fatta per accontentare mio padre non perché fossi veramente convinto della mia strada a un certo punto dissi su due le cose o accontento mio padre ma sarò in futuro un un avvocato frustrato infelice demotivato che si alzerà la mattina scontento di andare al lavoro oppure decido cambio strada do un taglio netto questa scelta un po così po forzata e faccio quello che io voglio veramente fare ricordo che mi consigliai con un mio amico sacerdote un certo don pietro al quale devo devo molto lui mi disse michele guarda che a te piace la materia teologia se vuoi studiandola poi anche diventare insegnante della legione quindi unisci le due cose la passione culturale a un lavoro che si ti piacerà perché so che sarà a contatto con i ragazzi notti ti piace di di tutti ti motiva per cui prova io dissi ok grazie grazie pietro del consiglio mi scrissi era almeno 180 e capì subito dopo cinque minuti che quella è alla mia strada perché mi piaceva la materia tanto tantissimo in qualche modo quella materia mi portava a realizzarmi con un lavoro che mi soddisfaceva infatti ero al terzo anno di studio qui ancora non ero laureato e già mi mi dettero l'incarico per insegnare il primo anno era ricordano 81 82 come anno scolastico e di una supperenza di di sei mesi a vialaventino san saba e lì che avevo 22 anni pensate non ancora compiuti sembrava un ripetente un po di coccio parecchio di coccio in mezzo a quasi dei coetanei in fondo con con gli alunni di terza media avevo differenza 89 anni non di più capivo lo sbarbatello alle prime prime armi e lì è cominciato il mio sogno e infatti il titolo di questo video da te già letto è sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno questa è una frase di giovanotti no della sua canzone famosa è vero io mi sono regalato un sogno e quale questo sogno aver scelto aver scelto di essere insegnante e quindi come primo video io comincio così ragazzi io vi auguro di avere la fortuna di scegliervi cosa essere l'insegnamento non deve capitare devi sceglierlo tu perché se l'insegnamento sceglie te lo subirai e ti alzerà la mattina non molto motivato non molto contento dicendo vabbè è il mio lavoro mi tocca andare a scuola vediamo oggi che succede se invece tu scegli l'insegnamento in modo consapevole non sarà per te un lavoro certo è faticoso hai a che fare con delle con dei ragazzi non con delle carte con della burocrazia non hai davanti un pc anche se negli ultimi anni la scuola il pc è diventato importante ma hai a che fare con dei ragazzi con delle persone con degli esseri umani ogni ora nel mio caso ogni ora cambio cambio classe hai avanti 15 20 22 23 ragazzi dagli 11 14 anni nel mio caso la scuola media è la prima dote la prima dote un insegnante deve possedere è qualcosa che non si compra e né si acquista con i corsi aggiornamento né si impara sui libri verrà sicuro è la dote per me basilare che nessuno ti insegna ma senza la quale è meglio cambiare mestiere guardate io con ho conosciuto conosco e conoscerò tanti docenti miei colleghi vi assicuro nella stragrande maggioranza per non dire cento per cento persone stimabilissime diverse da me ma ci mancherebbe con le quali ho sempre avuto un bel rapporto di simpatia di rispetto non con tutti allo stesso livello ma un buon rapporto lavorativo e con alcuni anche di di amicizia però pur essendo persone stimabilissime io in alcune di queste persone non conosciuti tanti di colleghi centinaia vi assicuro forse migliaia ho notato che in una percentuale che non so stimare quanto possa essere questa percentuale ho notato che alcuni di questi miei colleghi peccano di una virtù che ripeto non si compra la passione educativa prima ancora di essere un comunicatore di cultura tu insegnante devi essere uno che ha un fuoco dentro che ti arde non so parole così poetiche devi dire io voglio essere in qualche modo utile ai miei ragazzi passione educativa però la passione educativa non te la insegnano io ho fatto l'università ma ho quattro anni più di 30 esami con la tesi finale ma ho fatto qualche esame di psicologia ma era psicologia applicata poi alla alla didattica no a come insegnare ok ma nessuno mi ha mai mi ha mai fatto riflettere sulla sulla empatia sapere che cos'è l'empatia no la capacità di di condividere gli stati d'animo altrui dei ragazzi in questo caso di condividerli ricordando come eri tu a quell'età e se un insegnante manca questa capacità di entrare in contatto empatico con i propri alunni può essere un genio culturalmente può conoscere della sua materia tutto di più di tutto ma sarà un semplice funzionario un burocrate quindi ripeto io comincio a dirvi questo ogni insegnante deve avere come base questa capacità di entrare in empatia l'empatia nasce dal fatto che tu hai passione per il tuo lavoro ti alzi la mattina e dici non dici mi tocca andare a scuola ci sono contento di andare a scuola poi sarà faticoso troverai alunni classi difficili uscirai distrutto esausto ma se sei motivato e hai questa passione anche se se ti stancherai tantissimo arriverai a casa per farti il pisolino neanche mangerai a volte per riposarti alla fine del gioco della giornata sarai consapevole di essere stato in qualche modo importante per i ragazzi e questi ragazzi lo capiscono subito io ripeto ho conosciuto tanti colleghi ne conosco tanti però a malincuore devo dire che ad alcuni di loro questa passione educativa manca o è carente io non sono migliore di nessuno assolutamente ci mancherebbe pure sarebbe un sintuoso però credo di avere questa passione perché ho scelto l'insegnamento non è lui che ha scelto me e avendolo scelto chiaramente sono stra stra coinvolto anima anima e corpo per cui finisco ragazzi dicendo questo in ogni in ogni campo del lavoro umano quando voi dovrete scegliere cosa fare ma cosa essere se potete se avete le condizioni adatte scegliete scegliete ciò che vi appassiona e lasciate perdere per un momento il guadagno il guadagno arriverà se io avessi dato detta a mio padre al 100 per cento e avessi continuato a studiare giurisprudenza con fatica con frustrazione con tristezza magari oggi sarei avvocato guadagnerei dieci volte di più rispetto allo stipendio di un insegnante ma non sarei così contento non sarei così realizzato interiormente quindi preferisco nettamente guadagnare molto meno rispetto a quello che avrei guadagnato da avvocato ma sentirmi realizzato pienamente inserito a mio agio diceva un grande psicologo che il futuro lavorativo dipende da due o tre sì o due o tre no che verso una certa età ogni persona deve no deve deve dire deve realizzare alcuni sì alcuni no detti bene o detti male condizionano quindi finisco qui mi raccomando ogni cosa che farete fate la compassione senza guardare subito il rendiconto personale il guadagno perché io ripeto ho scelto l'insegnamento non è lui che ha scelto me e questo è fondamentale ok ragazzi vi lascio qui se no vi annoio alla prossima nei prossimi video comincerò ad entrare piano piano in questo no meraviglioso lavoro lavoro per me una è una vocazione ma una missione e non sto usando parole forti è vero quindi entrerò pian piano nello specifico dell'insegnamento dal punto di vista del rapporto insegnante alunno la comunicazione dovrebbe essere come a volte non è gli errori che si compiono da insegnanti ma anche gli errori che compiono gli alunni che condizionano molto il lavoro dell'insegnante limitandolo in qualche modo e ostacolandolo ok buon pomeriggio buon san valentino mi raccomando fate gli auguri se avete i vostri fidanzatini o le vostre fidanzatine ciao ragazzi a presto